Si chiamano Anna e Lucia De Sinc, sono gemelle australiane e hanno una vita da due simbiosi, le due sorelle sono due voci d'acqua, condividono tutto, lo stesso resto, lo stesso cibo, il numero di ceugale è addirittura ben fidanzato. Arrivate ai 30 anni d'età, le due ragazze sono previstate un altro obiettivo da raggiungere assieme. Vogliamo avere un figlio, accade aperto in Australia. Anna avrebbe detto, se io rimassi incinta, Lucia dovrebbe avere una gravidanza nello stesso momento, perché i nostri corpi hanno bisogno di sentirsi uguali. Le gemelle sono fidanzate entrambe con il meccanico Ben Byron, anche lui gemello, ma non homo ziote. Dovremmo restare incinta e contemporaneamente, anche se fosse necessaria la fecondazione in vitro. Anna e Lucia De Sinc sono diventate famose dopo l'apparizione in un programma giapponese che le ha decretate, pensate, le gemelle più simili del pianeta. Le ragazze hanno speso, pensate, più di 165 mila euro, non una basecola, non una barzelletta, in chirurgia plastica esterica. Così sono diventate, per l'appunto, uguali in tutto e per tutto. Grazie cari utenti di YouTube, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate, fatemi sapere che le pensate e un saluto.